L'amministrazione comunale Rivana esce sconfitta dalla vicenda giudiziaria innescata dal ricorso di Walter Pilo e della società MassSRL, proprietari del bar Moby Dick di Piazza Catena, contro la revoca della concessione del plateatico firmata dal sindaco Mosaner, plateatico destinato a soddisfare le richieste dell'hotel Europa di Ivo Gentilini in seguito all'apertura del ristorante Bistro Europa 16. Il collegio amministrativo Trentino ha preso una decisione definitiva sostenendo che il provvedimento del comune è illegittimo e ha deciso che lo stesso ente pubblico debba risarcire alla parte ricorrente le spese di giudizio. Walter Pilo si dice soddisfatto della sentenza e sostiene che fin dall'inizio lui ha avuto la netta sensazione che il comune non si fosse posto come arbitro ma come tifoso di una delle due parti in causa. L'annuncio della sentenza ha scatenato anche la presa di posizione del consigliere provinciale Claudio Civettini, che in una nota chiede al sindaco Mosaner di rassegnare le dimissioni, in quanto la vicenda mette non solo in cattiva luce l'operato del sindaco e della sua amministrazione, ma entrambi in assoluto stato d'accusa su provvedimenti che parrebbero veramente infamanti la normale gestione della cosa pubblica e gli interessi dei cittadini in generale.